Non potete immaginare minimamente quanto mi faccia male fare questo video. Volevo farlo, volevo fare un contenuto dedicato, un contenuto approfondimento. Come solito, come cerco di fare, quando voglio parlare un po' con voi, voglio aprirmi un po' di più con voi, lo voglio fare dedicando questo video con tanta, tanta delusione che mi porto dietro, nei confronti di un personaggio, di un allenatore, in questo caso come avete potuto intuire dal titolo, che, ragazzi, mi ha deluso tantissimo, tantissimo. Stiamo parlando di quello che era il mio idolo, di quello che era il mio allenatore preferito, di quello che è stata la storia recente dell'Inter e anche la mia. E ora vi spiego tutto, cercherò di spiegarvi tutto. E sto parlando, ovviamente, di Giuseppe Morigno. Intanto, ragazzi, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Come sempre vi invito a lasciare un mi piace, un commento e ad iscrivervi a questo canale se volete sempre più nuovi contenuti riguardanti il mondo del calcio. Mi raccomando, importantissimo, campanella sempre attivata per non perdere i miei nuovi video. Ragazzi, mi raccomando i pollici. A voi non costa niente, a me date un supporto incredibile. Quindi, grazie, grazie, grazie in anticipo. Sto parlando, ovviamente, come vi ho già accennato, di Giuseppe Morigno. Come voi sapete, molti probabilmente lo sanno. Io sono un tifoso interista e, se spostiamo la lancetta, anzi, magari più di una lancetta, considerando che dobbiamo andare a praticamente 14 anni fa. Andiamo nel 2010. Io avevo 15 anni e, per me, l'Inter era quella squadra che si stava prestando a fare un triplete incredibile. Un triplete il cui maestro, il cui artefice, il cui ideatore è stato proprio Giuseppe Morigno. Io, ragazzi, quell'anno, e vi racconto un po' l'aneddoto, un po' come l'ho vissuto quell'anno. Quell'anno c'era un'aria a Milano e tra tutti noi tifosi interisti c'era un'aria incredibile perché arrivavamo a fine stagione con la consapevolezza di andarci a giocare un triplete, cioè di essere la prima squadra. in Italia a poter fare un triplete e sentivamo nei giocatori, ma soprattutto nell'allenatore, una fiducia, una consapevolezza. Sentivamo veramente la forza, l'opportunità. Sentivamo concretamente l'opportunità di poter raggiungere quell'obiettivo che sembrava così incredibile, così pazzesco, che solo il grande Barca di Pep Guardiola o il Manchester United di Ferguson era riuscito a fare in quegli anni qualcosa. parliamo della storia recente del calcio europeo e vedevamo in quella figura mistica di José Mourinho il condottiero. Voi ragazzi, voi forse non avete capito, io nel mio nome di Facebook avevo nome José Mourinho, cognome. probabilmente molti di voi siete giovanissimi e quasi sicuramente non ci siete neanche su Facebook, ma in quegli anni si usava tantissimo mettere il nome, il cognome del proprio calciatore preferito, del proprio giocatore preferito, nel nome, nel nickname dell'account. E per quello, giusto per farvi questo preambolo, per farvi capire cosa per me era José Mourinho. E ragazzi, vederlo ora, vedere come fa giocare ora la Roma, perché io ieri ho visto Milan-Roma ed è stata l'ennesima, l'ennesima pessima prestazione di una squadra che probabilmente in sé non ha gli interpreti per puntare in alto, ma che io me la ricordo qualche voce che diceva erroneamente che secondo me è la Roma, qualcuno diceva, secondo me la Roma quest'anno arriva in Champions, secondo me la Roma quest'anno può addirittura puntare a dar fastidio a Milan-Inter-Juventus-Napoli, candidate serie allo Scudetto, perché comunque c'è Tibala, c'era stato l'acquisto di Lukaku che sicuramente ha esaltato la piazza, insomma, una squadra che probabilmente nei suoi interpreti dava quella opportunità, instillava nel tifoso l'opportunità di poter raggiungere addirittura l'obiettivo Scudetto o quantomeno di dar fastidio, insomma, a quelle che erano le candidate ad inizio stagione. Ma ragazzi questa Roma gioca male, malissimo, io ieri ho visto una partita pessima con un Mourinho che ormai non ha più presa sulla squadra, che è da ormai, non lo so, probabilmente 4, 5, 6, 10 mesi, un anno che gioca male, perché la Roma gioca male, con José che sembra aver perso anche quella verve, come vi dicevo prima, i calciatori di 15 anni fa in Mourinho vedevano un condottiero, vedevano una persona sicuramente alla quale affidare tutta la propria capacità, tutta la... cioè io ricordo Eto'o, ragazzi, Eto'o che per Mourinho faceva il terzino, quindi si snaturava, perché Eto'o veniva dal Barcellona e faceva l'attaccante, si snaturava per Mourinho. Io questa abnegazione, questa voglia di giocare per l'allenatore, di vincere per l'allenatore, e di lasciare tutto in campo per l'allenatore, io non la vedo più. E secondo me Mourinho, cioè non voglio dare solo colpa al calciatore o alla squadra, perché ragazzi poi obiettivamente io vado a vedere la formazione di ieri della Roma, cioè non parliamo di uno squadrone, non parliamo sicuramente di uno squadrone, spero di riuscirlo a pigliare, qui vedo solo il Milan, cioè non parliamo sicuramente di uno squadrone, ma ragazzi, cioè, ok, ok che non è una squadra probabilmente da primi quattro posti, ma la Roma ha Lukaku, la Roma ha Dybala, quello che probabilmente era il sogno, la coppia da sogno dell'Inter degli ultimi anni, cioè l'Inter avrebbe dovuto prendere loro due poi per dare quel di più in attacco insieme a Lautaro Martinez, per dare quel qualcosa in più in attacco insieme a Lautaro, tanta tanta delusione, poi anche il modulo, questo 3-5-2 esasperato, che probabilmente non è neanche nelle corde di Mourinho, giocare col 3-5-2 significa avere degli esterni forti, Spinazzola è ormai un mezzo giocatore, anche la difesa a tre, fa spesso fatica, trova il centrocampo estremamente lento, macchinoso, produrre gioco, un attacco estremamente sterile, tanti problemi, tanti problemi, ma che a questo punto nascono dalla mente che è appunto l'attuale allenatore della Roma, il portoghese, a questo punto credo, e lo dico con estremo dispiacere, credo che sia arrivato ad una fine della propria carriera calcistica, e mi dispiace tanto criticarlo, ma io reputo che in questo caso le colpe di un, di tutto ciò che sta succedendo alla Roma, la maggior parte delle colpe di quello che sta succedendo alla Roma, è di questa, di questa carenza tecnica, tattica fisica e anche calcistica di produzione, proprio di gioco, e siano da assolutamente imputare al portoghese. La domanda con cui vi lascio è questa, Mourinho sì o no, e se ormai è arrivato al capolinea, perché probabilmente è questo, oggi ragionavo con il mio coach in palestra, e stiamo parlando proprio della partita che lui poi ieri ha visto in diretta lì allo stadio, e io ho percepito lo strapotere del Milan, perché il Milan è nettamente più forte, ma ha una Roma troppo, 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 troppo debole. La Roma è nona in questo caso, con 29 punti fatti in 20 partite, e li dimostra tutti, e li dimostra tutti. Non credo possa davvero, ma a questo punto neanche minimamente potersi affacciare in zona Champions, forse, probabilmente, l'Europa League ci sta, e a questo punto deve fare un miracolo, ma è pienamente alla portata, e per il resto poca, poca, poca roba. anche con la vittoria della conferenza e la finale di Europa League l'anno scorso, secondo me, Mourinho non giustifica queste stagioni così al di sotto delle aspettative, perché secondo me i Friedkin avrebbero voluto la Roma attualmente in Champions League, attualmente in Champions League, quindi, mi dispiace, e ripeto, ragionavamo con il mio coach oggi in palestra, la stessa cosa l'ha fatta Ancelotti, perché Ancelotti dopo il Napoli ha avuto l'Everton, quindi un attimo di downgrade, ma poi si è ripreso subito, Ancelotti attualmente è uno degli allenatori più vincenti della storia e Mourinho dopo le esperienze di Real, Chelsea, Inter, poi c'è stato un calo perché c'è stato il Tottenham e poi la Roma, c'è stato anche un calo un attimino dell'appeal rispetto all'allenatore Mourinho e questo mi dispiace, mi dispiace perché stiamo parlando di uno, ripeto, di uno degli allenatori che sicuramente ha dato di più al calcio negli ultimi anni, tra i più vincenti degli ultimi anni, probabilmente anche della storia del calcio, è un allenatore che ha un interissista nel cuore ma che probabilmente ora, in questo momento, deve probabilmente appendere un po' la cartellina delle schede tattiche al chiodo e probabilmente fare altro, quindi cari amici romani o cari amici sportivi che insomma mi seguite, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti e noi ci vediamo ad un prossimo video. di un prossimo video.